La mattina del 3 dicembre, in occasione delle celebrazioni della Giornata Internazionale delle persone con disabilità, l'Associazione Premio Eleanor Worthington ODB ha organizzato con il Comune di Urbino e la città di York l'evento online della premiazione degli studenti iscritti ad istituzioni italiane e britanniche che hanno partecipato alla settima edizione del premio Eleanor Worthington a livello terziario, quest'anno sul tema Inclusione della disabilità nel mondo di Raffaello, scelto per partecipare alle celebrazioni del pittore Urbinate. Il dottor Cavalera ha aperto la cerimonia portando i saluti del Comune di Urbino, Elisabetta Foschi ha sottolineato l'impegno, le iniziative e i progetti attuati nel nostro Comune in questo campo ed infine Elena Pazzaglia, coordinatrice dell'Ambito Territoriale e Sociale IV della Regione Marche, ha portato la testimonianza della Casa di Django. Il progetto Dopo di Noi, partito da pochi anni, è volto all'inclusione nella vita sociale di un gruppo di persone con disabilità. Sono stati poi assegnati i premi per gli studenti iscritti a istituzioni italiane.